e tutti dicano amen potete sedervi vi è già stato dato il benvenuto e da questo luogo vorremmo salutare tutti abbiamo già ricevuto i saluti dalla moldavia da kishinev dalla russia dall'ucraina dopo da johannesburg da lyon e poi dall'india dal pancia poi all'italia dal fratello stefano poi ancora dall'italia dal fratello pino davi poi saluti dalla finlandia il fratello e la sorella olveti mandano i saluti poi ancora saluti ancora dall'italia dal fratello donati poi ancora saluti dal nostro fratello maschi ed ancora da chi abbiamo saluti da ogni parte dal sud africa dagli stati uniti da ogni parte i fratelli ci mandano i saluti quale corpo del signore siamo realmente anche gli uni con gli altri siamo uniti insieme siamo uniti con il capo con gesù cristo il nostro signore e come paolo scrive il corpo ha molte membra ed ogni membro ha un compito diverso e tutti coloro che appartengono al corpo del signore si rallegrano al riguardo se i membri si servono l'un l'altro e quello è come l'abbiamo enfatizzato già ieri anche tutti i ministeri sono dati giusto per l'edificazione della chiesa ora noi notiamo pure che il tempo scorre molto velocemente in un paio di settimane l'anno terminerà e dio volendo all'inizio di novembre il prossimo fine settimana abbiamo le riunioni a novi sat la seconda più grande città dopo belgrado e noi aspettiamo che le persone vengano da vicino e da lontano abbiamo più di 100 indirizzi di coloro che curiamo in tutto il paese il fratello miller ed il fratello moncello petrovice hanno fatto un viaggio missionario proprio di recente ed hanno fatto dei preparativi ricordatevi di noi in modo particolare il prossimo fine settimana affinché anche la possiamo portare il messaggio del signore che dio faccia una breccia che egli apre gli occhi e i cuori e che possa manifestare se stesso al popolo di dio poi andremo nell'estremo oriente e come ho già annunciato l'ultima volta è probabilmente uno dei viaggi più lunghi fino alla nuova ghina al nord dell'australia la non sono mai stato prima e poi voglio visitare i paesi limitrofi e l'ultimo paese port morris pose il signore benedire anche la ricordatevi di questo viaggio nelle vostre preghiere poi abbiamo visto pure che l'ultimo impero mondiale l'europa sorge adesso l'ultima firma è stata posta sotto il contratto e dal primo dicembre avremo la perfetta unione europea e poi abbiamo ciò che è scritto nel profeta daniele capitolo 2 ed anche nel capitolo 7 l'ultimo impero mondiale che calpesterà tutte le altre nazioni e tutti dovranno sottomettersi l'unione nella religione nell'economia semplicemente una piena unione e poi sarà adempiuto avocalisse capitolo 17 che la potenza religiosa cavalca la potenza mondiale avendo le redini in mano non vogliamo entrare nei dettagli qui ma vogliamo semplicemente dire che adesso il tempo è così avanzato le profezie della bibbia prendono forma e l'articolo di ieri nel giornale west deutsch dice citazione del giorno non c'è alcuna società in questo mondo con un nocciolo così sano come la chiesa cattolica citazione sul giornale west deutsch di ieri ieri nel nostro paese è stato celebrato il giorno della riforma martin lutero inchiodò le 95 tesi nella cattedrale di wittenberg noi abbiamo visto questa cattedrale abbiamo visto la porta abbiamo visitato wittenberg e cosa è diventato ciò le 350 denominazioni protestanti che da quel tempo sono sorte ciascuna di loro adesso guarda a roma e soltanto gli eletti riconoscono il giorno e il messaggio che ci è stato indirizzato per grazia e noi siamo così riconoscenti di aver riconosciuto ciò e che possiamo piazzare le cose biblicamente per mezzo della sua grazia nel nostro tempo abbiamo la parola della profezia ed abbiamo la parte evangelistica e noi possiamo dire nelle predicazioni del fratello branham il nocciolo della predicazione rimane fino alla fine gesù cristo crocifisso è colui che ritornerà il nostro redentore era il pieno vangelo con la piena conferma che dio ci ha dato in questo tempo per grazia e che è stato messo sul candelabro e noi ricordiamo ciò che è stato detto al nostro caro fratello l'11 giugno 1933 ed io apprezzo molto che io stesso sono stato testimone nell'aprile 1966 ho visto dei testimoni che erano presenti nel 1933 che stavano sulla riva del fiume Ohio che hanno testimoniato come la luce soprannaturale scese visibile a tutti coloro che erano presenti per i giornalisti fotografi per tutti coloro che erano presenti essa scese in modo visibile credenti o non credenti e poi la voce parlò da questa luce soprannaturale al fratello Brana ed ora viene il punto che naturalmente mi tocca in modo particolare le cose che il Signore ha detto sono state tolte dal contesto e le parole principali le hanno tralasciate ed oggi non ci occupiamo soltanto con quello che accade nelle altre chiese e denominazioni ciò che viene interpretato là oggi ci occupiamo di ciò che accade nell'ambito del messaggio ciò che viene interpretato là io ho scritto al riguardo non andrò ora nei dettagli tuttavia vale la pena pensare a ciò se si ascolta sedici volte dalle labbra del fratello Brana in vari sermoni ciò che il Signore ha realmente detto vale a dire come Giovanni il Battista è stato mandato per precedere la prima venuta di Cristo così tu sei mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo e in tutto ciò che i nostri fratelli negli Stati Uniti hanno fatto in tutto ciò in tutto ciò manca la parola messaggio loro hanno semplicemente falsificato ciò l'hanno cambiato a Tucson nella casa del fratello Brana hanno inciso nella porta d'ingresso il testo che dice come Giovanni il Battista è stato mandato per precedere la prima venuta di Cristo punto così tu sei mandato per precedere la seconda venuta di Cristo punto e così per loro tutto è finito per sempre e per loro a nessuno è stato dato il diritto di portare il messaggio in tutto il mondo perché manca la parola messaggio manca in quel bel libro manca persino nella piramide della pietra tombale che si trova nel cimitero di Jeffersonville che è stata eretta là molto costosa ma il testo anche là non è giusto anche là c'è scritto soltanto come Giovanni il Battista è stato mandato per precedere la prima venuta di Cristo così tu sei mandato per precedere la seconda venuta di Cristo ne è stato fatto un luogo di pellegrinaggio e per loro tutto è finito con il fratello Brana con il fratello Brana ogni cosa è giunta alla fine ed ora viene il fratello Frank e dice ciò che è scritto là è una falsificazione ed io ho sentito le sedici citazioni dalla bocca del fratello Brana e le pubblicherò nella prossima lettera circolare affinché ognuno sappia al 100% quello che il Signore ha detto quello che il fratello Brana ha detto è ciò che questi gentiluomini hanno falsificato ed io l'ho già menzionato tutte le falsificazioni nelle denominazioni e nelle chiese tutte le interpretazioni sbagliate tutti i cambiamenti delle segre scritture oggi non ci infastidiscono affatto ma quello che viene fatto in mezzo a quelli che sono stati chiamati fuori noi abbiamo il diritto per la pura verità abbiamo il diritto per il messaggio non falsificato Dio è verace ed ogni uomo bugiardo se i fratelli avessero avuto un po' di timore di Dio in loro allora non avrebbero fatto questo tuttavia non voglio entrare nei dettagli è la loro convinzione che un giorno il fratello Brana ritornerà ed avrà la fase finale oggi non entrerò nei dettagli ma ho davanti a me qui dice in questo passo principale ci sono alcune citazioni delle complessive 55 citazioni che il fratello Brana ha fatto in merito al terzo pull e di nuovo c'è un punto non entreremo nei dettagli qui non spenderemo molto tempo è semplicemente una grande pena per me se dei fratelli in tutto il mondo vengono sulla scena e dicono il profeta ha detto il profeta ha detto e non riescono a discernere persino la differenza fra quello che egli ha detto prima dell'apertura dei sugelli e quello che ha detto dopo l'apertura dei sugelli e lasciatemi dire questo permettetemi di dire questo molto chiaramente dall'ultima citazione del 25 luglio 1965 qui dalla bocca del fratello Brana il primo pull era la guarigione il secondo pull era profetico e il terzo pull era la rivelazione della parola di tutti i misteri così mettiamociò da parte questo è finito allo stesso modo come Dio disse a Mosè io ti darò due segni ed egli glieli ha dati poi con il ministero di Mosè quella parte che gli era stata affidata era terminata la nessuno doveva più venire a dire che Mosè sarebbe venuto di nuovo sulla scena per avere qualche tipo di ministero il ministero era terminato ed è la stessa cosa nel nostro tempo anche Giovanni il Battista fu portato a casa dopo che il suo ministero era terminato ogni cosa accade naturalmente nella casa di Dio nel Regno di Dio nella Chiesa secondo la volontà di Dio come ci è stata lasciata nella parola di Dio per essere sincero ci sono persone senza un diritto divino che sono entrate nel messaggio ed hanno causato un grande danno il nostro compito è di proclamare la parola eterna e questo faremo finché avremo un alito di vita leggiamo un paio di scritture la prima in due corinzi due corinzi capitolo 2 verso 17 due corinzi capitolo 2 verso 17 noi non falsifichiamo infatti la parola di Dio come molti altri ma parliamo in sincerità come da parte di Dio davanti a Dio in Cristo così non soltanto parliamo ma poiché siamo mossi da Dio alla presenza di Dio alla presenza di Gesù Cristo noi non diciamo soltanto qualcosa ma diciamo ciò che Dio ha detto e questo noi lo diciamo nel nome di Gesù Cristo il nostro Signore nella diretta presenza di Dio quello che diciamo qui potremmo dirlo pure se il Signore stesse qui sulla piattaforma è la santa parola di Dio in due corinzi capitolo 3 è scritto nel verso 6 2 corinzi capitolo 3 verso 6 il quale ci ha anche resi ministri idonei del nuovo patto non della lettera ma dello spirito poiché la lettera uccide ma lo spirito dà vita dunque la parola deve diventare spirito e vita e spirito e vita diventa soltanto se rivelata all'individuo per mezzo dello Spirito Santo poi in due corinzi nel capitolo 4 proprio dal principio perciò avendo questo ministero per la misericordia che ci è stata fatta non ci perdiamo d'animo noi non ci perdiamo d'animo sebbene tutte quelle cose ci affliggono così tanto tuttavia non ci perdiamo d'animo perché perché sappiamo che il Signore stesso terminerà la sua opera di redenzione con la sua chiesa per il giorno glorioso del suo ritorno e se dopo penso a tutti questi gentiluomini che sono usciti dall'Egitto i core e chiunque fossero che in seguito vennero sulla scena nella chiesa ed essi resero la vita difficile a Mosè ed a Raonne tutti loro attraversarono il Mar Rosso tutti loro erano presenti quando Dio era con loro nella colonna di nuvola e di fuoco conducendo il suo popolo tutti loro erano testimoni di ciò che accadde in quel tempo e tuttavia si lasciarono ingannare e dissero Mosè tu pretendi troppo per te noi siamo pure qui sì noi siamo pure qui ma per favore in quel posto che Dio vi ha dato nel regno di Dio ci deve essere un ordine divino per mezzo della sua grazia non può essere diversamente e se Paolo nel Nuovo Testamento scrive in merito a tutti questi gentiluomini che hanno portato strane dottrine atti capitolo 20 usciranno di mezzo a voi Giovanni scrive se fossero stati dei nostri allora sarebbero rimasti con noi molti sono usciti ma l'esodo da solo non è sufficiente chi avrà perseverato fino alla fine sarà coronato non è coronato l'esodo ma il compimento quando noi raggiungiamo la destinazione allora viene il coronamento e perciò rimaniamo fermi nella parola del Signore continuiamo a leggere in due corinzi capitolo 4 qui dice nel verso 2 anzi abbiamo rinunziato ai sotterfuggi della vergogna non camminando con astuzia né falsificando la parola di Dio ma mediante la manifestazione della verità raccomandando noi stessi alla coscienza di ogni uomo davanti a Dio questa è la mia e la nostra posizione oggi al cospetto di Dio continuiamo nel verso 3 ma se il nostro Evangelo è ancora velato esso lo è per quelli che periscono e questo non possiamo cambiarlo noi non abbiamo influenza su ciò chi è destinato la salvezza a lui viene rivelato e chiunque non accetta la parola per fede egli continuerà nelle sue proprie vie e come è scritto qui è nascosto loro tali persone vanno in perdizione io voglio enfatizzare qui siate riconoscenti per la rivelazione che Dio ci ha dato per mezzo della sua grazia siate riconoscenti per quello che Dio ci ha affidato vale a dire che possiamo mettere Gesù Cristo al centro è la proclamazione dell'Evangelo eterno ora rimane solo una cosa ciò che deve accadere ciò che deve accadere con noi vale a dire ciò che è scritto in atti capitolo 2 dal verso 32 al verso 41 e chiunque legge questo noterà che Pietro probabilmente non ha dovuto alzare molto la voce sebbene migliaia di persone erano là non c'erano microfoni in quel tempo ma dal verso 32 in atti capitolo 2 egli espone brevemente il consiglio di Dio con Gesù Cristo il nostro Signore ed ecco in un paio di minuti è accaduto ciò che noi leggiamo nel verso 37 oressi udite queste cose furono compunti nel cuore e chiesero a Pietro e agli apostoli fratelli che dobbiamo fare io aspetto questo momento in cui non dobbiamo dire più chi vorrebbe consacrare la sua vita al Signore che non dovremo più implorare ma che lo Spirito di Dio possa scendere potentemente operando in modo così potente nella riunione che sotto la predicazione possa sorgere il desiderio cosa devo fare per essere salvato cosa devo fare per essere salvata e dopo viene la risposta dal verso 38 qui è scritto allora Pietro disse loro ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo poiché la promessa è per voi e per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà non c'era bisogno d'aiuto qui la predicazione come toccò il loro cuore la chiamata era là e il loro grid è stato cosa dobbiamo fare per sperimentare quello che voi avete sperimentato ed ecco che la risposta fu data e ci furono 3.000 persone che furono salvate in un giorno in un solo sermone diventarono credenti e si lasciarono battezzare sì noi aspettiamo il potente operato di Dio e come è stato detto qui nella parola di introduzione ogni riunione dovrebbe essere come con i nostri fratelli e le nostre sorelle che erano radunate al principio nella sala di sopra in attesa che Dio inviasse il suo santo spirito in attesa che abbia luogo il soprannaturale nella chiesa vale a dire nel servizio in cui siamo adesso poi abbiamo il pensiero particolare in merito al cibo spirituale che deve essere distribuito e per me ciò diventa sempre più grande il cibo spirituale è collegato alla diretta volontà di Dio e al riguardo vorrei leggere la parola nel Vangelo di Giovanni proveniente dalla bocca del nostro Signore Vangelo di Giovanni capitolo 4 qui dice dal verso 27 che il Signore e i suoi discepoli avevano bisogno di qualcosa da mangiare e dal verso 32 leggiamo Giovanni 4 verso 32 ma egli disse loro io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete i discepoli perciò si dicevano l'un l'altro gli ha qualcuno forse portato da mangiare e poi viene la risposta il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere l'opera sua e di compiere l'opera sua la predicazione della vera parola il cibo spirituale è collegato con il compimento di ciò che Dio vuole fare e riguarda la mietitura qui andiamo avanti nel verso 35 non dite voi che bisogna ancora quattro mesi e poi viene la mietitura ecco io vi dico alzate i vostri occhi e mirate le campagne come già biancheggiano per la mietitura dunque non abbiamo bisogno di aspettare finché la mietitura avvenga in tutto il mondo alla fine ma nei duemila anni la parola è stata seminata delle persone sono diventate credenti e c'è stato frutto lungo tutto il tempo poi leggiamo nel verso 36 or il mietitore riceve il premio e raccoglie frutto per la vita eterna affinché il seminatore e il mietitore si rallegrino insieme poi leggiamo nei versi 37 e 38 poiché in questo è vero il detto l'uno semina e l'altro miete io vi ho mandato a mietere ciò per cui non avete faticato altri hanno faticato e voi siete entrati nella loro fatica egli è il seminatore della buona semenza secondo Matteo capitolo 13 e in particolare i versi 37 e 38 la buona semenza della parola che è stata seminata è cresciuta ed il frutto che è apparso sono i veri figli di Dio che hanno ricevuto in loro la semenza divina e se leggiamo al riguardo Giacomo capitolo 1 verso 18 qui è molto chiaro qui viene parlato chiaramente nate di nuovo tramite il seme eterno della parola di Dio Giacomo 1 verso 18 egli ci ha generati di sua volontà mediante la parola di verità generati da Dio affinché siamo in un certo modo le primizie delle sue creature dunque la stessa parola che Dio ci ha lasciato noi l'abbiamo ricevuta e la parola è la sostanza divina e il Signore ha prodotto nuove vite noi tramite il suo spirito ed egli ci ha dato l'accesso diretto a tutto ciò che Dio ha preparato per noi se poi leggiamo in primo Timotio nel capitolo 4 primo Timotio capitolo 4 qui abbiamo la descrizione di ciò che accadrà alla fine dei giorni e perciò non dovremmo meravigliarci troppo primo Timotio capitolo 4 verso 1 ora lo spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni avvossateranno dalla fede dando ascolto a spiriti seduttori e a dottrine di demoni tutto ciò che non viene da Dio da chi viene allora? da chi? e Dio ci ha dato la sua parola e noi rimaniamo in questa parola finchè passeremo dal credere al vedere i demoni regano sempre nuove false dottrine le persone vengono fuorviate ma tutti quelli che sono guidati dallo spirito di Dio dimorano nella parola di verità e sono santificati in essa e poi Paolo dice indirizzandosi a Timotio al suo collaboratore nello stesso capitolo primo Timotio capitolo 4 verso 6 proponendo queste cose ai fratelli tu sarai un buon ministro di Gesù Cristo che hai seguito ai fratelli di Dio che hai seguito da vicino nelle parole della fede e della buona dottrina che hai seguito da vicino prima che tu predichi devi prendere le parole della fede e della buona dottrina come tuo cibo la parola di Dio come tuo cibo la parola che ti è stata affidata tu la puoi trasmettere e poi dice nel verso 16 dello stesso capitolo abbi cura di te stesso e dell'insegnamento persevera in queste cose perché facendo così salverai te stesso e coloro che ti ascoltano e questo deve aver luogo in questo tempo serio in cui siamo arrivati sarebbe molto necessario che potessimo leggere quanto spesso il nostro Signore ha detto non siate sedotti fate attenzione sia in Matteo 24 sia in Marco 13 sia in Luca 21 fate attenzione che nessuno vi seduca e poi viene Matteo capitolo 24 verso 24 se fosse possibile persino gli eletti sarebbero sedotti Dio Dio si è ringraziato che non è possibile gli eletti sono predestinati per la verità tutti gli altri sono predestinati per l'errore e perché? perché hanno girato le spalle alla verità e così noi ringraziamo Dio che ci ha dato la fede nella verità andiamo ancora in due due o tre passi della scrittura nell'Antico Testamento per vedere ciò che Dio ha promesso ad Israele e ciò che ha promesso alla Chiesa per sapere che cosa dobbiamo aspettare a cosa dobbiamo prestare attenzione nel profeta Sofonia leggiamo una parola meravigliosa Sofonia capitolo 3 nel verso 14 Sofonia capitolo 3 verso 14 è uno dei profeti minori si trova dopo Abba Cucche e prima di Ageo e qui nel capitolo 3 verso 14 prorompi in grida di gioia o figlia di Sion alza grida d'esultanza o Israele rallegrati ed esulta con tutto il cuore o figlia di Gerusalemme ed ora viene il motivo della gioia verso 15 il Signore ha revocato le sue condanne contro di te ha scacciato il tuo nemico il Re di Israele il Signore è in mezzo a te non trovai più temere alcun male dunque dunque il raduno del popolo di Israele alla fine dei giorni finché verrà da impiuto che il Signore regnerà sul monte Sion in mezzo al suo popolo leggiamo leggiamo i versi 16 e 17 qui è scritto quel giorno si dirà a Gerusalemme non temere o Sion le tue mani non si indeboliscano il Signore il Signore il tuo Dio è in mezzo a te come un potente che salva egli si rallegrerà con gran gioia per causa tua si acqueterà nel suo amore esulterà per causa tua con grida di gioia questo sarà qualcosa di meraviglioso ma prima che questo accada notate che qui si parla del monte Sion e in Apocalisse 14 l'agnello con i 144.000 è mostrato sul monte Sion dopo che vengono chiamati fuori li vediamo sul monte Sion ora il verso 20 in Sofonia capitolo 3 in quel tempo io vi ricondurrò in quel tempo vi raccoglierò perché vi renderò famosi e gloriosi fra tutti i popoli della terra quando farò tornare sotto i vostri occhi quelli che sono in esilio dice il Signore noi aspettiamo che il Signore cambi la nostra posizione lo ripeto lo ripeto semplicemente quello che ho detto ieri mi auguro che tramite la proclamazione possiamo unirci con Dio affinché la presenza di Dio scenda e che il Signore si manifesti in mezzo a noi ed ora ed ora veniamo in un potente testo in Ageo capitolo 2 in riferimento alla promessa che Dio ha dato ad Israele e poi andiamo direttamente in Ebrei 12 per vedere dove siamo piazzati da Dio Ageo capitolo 2 per favore ricevete questa parola adesso verso 5 la promessa secondo il patto che feci con voi quando usciste dall'Egitto il mio spirito è in mezzo a voi non temete senza considerare tutto il periodo di tempo della disubbidienza delle proprie vie ogni cosa sarà dimenticata in quel tempo nel momento in cui Dio raduna il suo popolo riportandolo dove egli si è rivelato al principio e dove egli si rivela alla fine qui dice la promessa secondo il patto che feci con voi quando usciste dall'Egitto la promessa che Dio ha dato il principio rimane fino alla fine e Dio farà ciò che ha promesso la cosa importante è che possa essere adempiuto il mio spirito regna in mezzo a voi possa lo spirito di Dio riversarsi in mezzo a noi possa egli agire affinché possiamo essere tutti i sopraffatti della presenza soprenaturale del nostro Dio poi il verso 6 così infatti parla il Signore degli eserciti ancora una volta fra poco io farò tremare i cieli e la terra il mare e l'asciutto andiamo con questo in ebrei capitolo 12 qui l'uomo di Dio espone e paragona la chiesa al monte Sion ebrei capitolo 12 forse leggiamo velocemente dal verso 12 al verso 14 e poi andremo a ciò che abbiamo letto proprio ora la parola d'ammunizione indirizzata a noi tutti ebrei capitolo 12 verso 12 perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti anche voi cari fratelli che avete problemi che avete difficoltà e se oggi chiedeste chi non ha problemi chi non ha difficoltà chi non ha afflizioni il nemico rende la nostra vita così miserabile per quanto sia possibile e poi noi alziamo lo sguardo al Signore noi sappiamo che tutte le cose coprono il bene di coloro che amano Dio queste cose ci portano più vicini al Signore e poi dice qui come ammunizione nel verso 13 fate sentieri diritti per i vostri passi qui ricordiamo la parola del Signore i luoghi alti siano abbassati e i luoghi bassi siano innalzati affinché ci sia una via preparata per il Signore affinché quel che zoppo non esca fuori di strada ma piuttosto guarisca qui abbiamo una parola seria per favore ascoltatela ascoltate questa parola adesso è assolutamente necessario che tutte le pecore rimangano nel greggio è assolutamente necessario che tutte le pecore rimangano nel greggio e notatelo nel naturale quando c'è un greggio per esempio in Africa su chi un leone è concentrato e sulle pecore deboli non sul greggio non sul greggio radunato ma sui singoli che sono rimasti indietro da qualche parte il leone insegue queste non rimanete indietro e quando giunge il momento in cui siete messi davanti ad una decisione per favore guardate al Signore e se diventate zoppi il Signore può guarire tuttavia rimanete nel greggio rimanete nel greggio questo è molto importante è persino scritto non abbandonate la vostra comune radunanza cosa ha in comune il credente con l'incredulo che comunione c'è tra la luce e le tenebre cosa da fare Cristo con Beliar così rimanete nella parola di verità e nel momento in cui sembra che le cose non vadano come vorremmo rimanete nel Signore rimanete nella grazia dimorate nella parola ed egli aprirà una via veniamo ora nel verso 22 dove la chiesa la nuova Gerusalemme è paragonata al monte Sion e perché? perché la parola del Signore è uscita dal monte Sion e l'insegnamento da Gerusalemme così è scritto in Isaia capitolo 2 ed anche in Michea 4 qui abbiamo la parola in ebrei 12 verso 22 voi vi siete invece avvicinati al monte Sion alla città del Dio vivente la Gerusalemme celeste alla festante riunione delle miriadi angeliche all'assemblea dei primogeniti che sono scritti nei cieli a Dio il giudice di tutti agli spiriti dei giusti resi perfetti a Gesù il mediatore del nuovo patto e al sangue dell'aspersione che parla meglio del sangue da Bele qui non si parla di una denominazione né di una direzione di fede ma si parla della chiesa dei primogeniti che hanno ricevuto il diritto di primogenitura egli il redentore è il primogenito in mezzo a molti fratelli e tutti i redenti figli e figlie di Dio hanno ricevuto il diritto di primogenitura siamo nati di nuovo ad una vivente speranza e siamo stati riportati a ciò che è uscito da Gerusalemme la parola del Signore è uscita da Gerusalemme è l'insegnamento dal monte Sion ed ora dice qui voi voi quelli che ora formano la chiesa del Signore voi siete venuti alla città del Dio vivente la Gerusalemme celeste se andiamo in Apocalisse 21 vieni ti mostrerò la sposa dell'agnello ed egli vide come la nuova Gerusalemme discendeva fratelli e sorelle come Dio ha scelto Gerusalemme per il suo popolo Israele così egli ha scelto la nuova Gerusalemme per la sua sposa ed egli è andato a prepararci un posto qui è scritto in Apocalisse capitolo 21 verso 2 Apocalisse capitolo 21 verso 2 e vidi la santa città la nuova Gerusalemme scendere dal cielo da presso Dio pronta come una sposa adorna per il suo sposo fratelli e sorelle noi abbiamo ricevuto un'alta vocazione e prendiamo seriamente la proclamazione della parola poiché il tempo della grazia è giunto alla fine e contiamo sul ritorno di Gesù Cristo che può avvenire in ogni momento leggiamo la scrittura che si riferisce ad Ageo che abbiamo già letto nell'Antico Testamento ve la dire il verso 26 in ebrei capitolo 12 la cui voce scosse allora la terra e che adesso ha fatto questa promessa ancora una volta farò tremare non solo la terra ma anche il cielo dunque la parola dell'Antico Testamento la troviamo confermata nel Nuovo Testamento e qui poi leggiamo nel verso 25 nel verso 25 badate di non rifiutarvi da ascoltare colui che parla badate di non rifiutarvi da ascoltare colui che parla ciò dovrebbe essere scritto nei nostri cuori dovrebbe essere inciso nei nostri cuori badate perché il Signore parla per l'ultima volta io credo che questo sia l'ultimo messaggio che il Signore ha dato a tutta l'umanità e specialmente agli eletti ora in questo tempo affinché tutti coloro che hanno orecchi per udire prestino attenzione a ciò come è scritto qui badate di non rifiutarvi di ascoltare colui che parla non un profeta non un predicatore ma il Signore parla a noi tutti per mezzo della sua parola e poi siamo di nuovo in questo punto dobbiamo riuscire a stabilire il collegamento da Dio a noi e da noi a Dio la riconciliazione è avvenuta 2 corinzi capitolo 5 dal verso 17 siate riconciliati con Dio Dio era in Cristo riconciliando il mondo a se stesso e al posto di Cristo noi vi supplichiamo siate riconciliati con Dio la riconciliazione ha avuto luogo noi siamo in pace con Dio abbiamo trovato pace per mezzo di Gesù Cristo il nostro Signore e perciò noi l'accettiamo per grazia come dono di Dio e diciamo grazie al Signore nostro Dio con tutto il nostro cuore io spero che noi tutti abbiamo compreso questo ed io penso che in questo contesto per quel che concerne la distribuzione del cibo ricordo pure questa esperienza sebbene molti l'hanno già ascoltata ma per me queste dirette esperienze che sono in collegamento con il Ministero hanno realmente uno speciale significato per voi potrebbe essere diverso tuttavia come abbiamo letto badate di non rifiutarvi di ascoltare colui che parla e Dio realmente del continuo ha parlato attraverso le labbra degli uomini e ha rivelato la sua parola per favore permettetemi di dire questo oggi perché ho una parte diretta nella distribuzione del messaggio a Jeffersonville non voglio entrare nei dettagli ma il 12 il 13 aprile 1966 se non avessi radunato i fratelli se non avessi detto loro che i sermoni del fratello Branham dovevano essere ora stampati perché dovevano essere tradotti in diverse lingue allora nessuno sulla terra avrebbe udito in merito al messaggio alla fine degli anni 60 ad Edmonton Canada noi abbiamo aperto un ufficio perché l'operato a Jeffersonville non era come noi avremmo desiderato dunque vi erano due uffici uno in Canada che era guidato da Donny Bablitz ed alcuni che lo aiutavano e poi dal 1969 ho dato questi due indirizzi su tutta la terra ed essi potevano ordinare i sermoni del fratello Branham a Jeffersonville e ad Edmonton ed ora accade ciò che segue ho dato un'occhiata al mio calendario ho due cose evidenziate là una del 1974 e una del 1975 ed ora devo dire sinceramente non esattamente chiaro qual era la data ma in ogni caso accadde qualcosa accadde un sabato un sabato mattina che questo fratello Donny Bablitz io ero là in visita alla strada 137 e questo fratello che guidava l'ufficio venne da me quel sabato e in questa conversazione egli era così sopraffatto di quanti fratelli avevano scritto da tutta la terra e la sua domanda è stata per favore scusatemi se dico questo qui la sua domanda è stata fratello Frank il ministero del fratello Branham è confermato nella Bibbia ma che ne è del tuo ministero è anche testimoniato nella Bibbia e sapete cosa ho fatto l'ho fermato e ho detto caro fratello fermati fermati con questi pensieri io sono soltanto uno che trasmette quello che ho ricevuto dal Signore ed ho persino aggiunto come potrebbe il mio ministero essere scritto nella Bibbia sì abbiamo chiuso la conversazione e il mattino seguente proprio il mattino seguente quando il sabato avevo detto a questo fratello fermati come potrebbe il mio ministero essere nella Bibbia e giusto il mattino seguente mi ero già vestito il sole si era già levato brillava nella mia stanza stavo per prendere la mia Bibbia e come voi udite la mia voce adesso mio servitore io ti ho costituito secondo Matteo 24 dal verso 45 al verso 47 per distribuire il cibo io devo dirlo in questa maniera come accadde in quel tempo e sin allora i nostri fratelli sono stati fortificati essi sanno che noi non facciamo giusto qualcosa ma nell'incarico divino distribuiamo la parola rivelata il cibo spirituale in collegamento con la volontà di Dio in questo tempo trasmettendolo al popolo di Dio con il desiderio che il Signore abbia la sua via con ciascuno di noi per mezzo della sua grazia anche questo giorno possa servire allo scopo che noi siamo fortificati nella fede e che possiamo sapere che viviamo nel tempo in cui le promesse si adempiono e noi abbiamo parte in ciò che Dio fa proprio ora lasciate che diciamo in chiusura se con il fratello Branham ogni cosa fosse giunta alla fine allora il Signore sarebbe certamente venuto altrimenti a cosa sarebbe servito tutto il tempo che è passato da allora ma Dio ha conosciuto ogni cosa in anticipo e noi usiamo questo tempo per portare l'ultimo messaggio fino alle estremità della terra possa lo Spirito di Dio operare in mezzo a noi possa a ciascuno essere accordata rivelazione per mezzo dello Spirito Santo ed io posso assicurarvi che noi non abbiamo seguito favole artificiosamente inventate non abbiamo seguito interpretazioni ma la parola di Dio rivelata per questo tempo e tutti quelli che sono da Dio ascolteranno la voce di Dio io non mi vergogno del Vangelo di Gesù Cristo sono riconoscente che Egli ci ha reputati degni di vivere in questo tempo e di riconoscere il messaggio e il giorno e come ho già detto di aver parte in ciò che Dio fa proprio ora sulla terra badiamo di non rifiutare colui che ci parla attraverso la sua parola e che ce la rivela per mezzo del suo Santo Spirito per grazia a Lui il Dio Onipotente sia la lode e l'onore lode, onore, gloria e adorazione per sempre Alleluia, Amen alziamoci in piedi cantiamo il coro oh, io vorrei vedere colui che morì per me l'onore 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 28 volete tutti voi essere pronti? Amen credete tutti il messaggio divino e il Signore Dio vi benedica possa benedire noi tutti che gli possa avere la sua via con ciascuno di noi anche ora pregheremo insieme gli uni per gli altri e crederemo secondo la parola del Signore come scritto in Marco capitolo 11 dove il nostro Signore ha detto quando pregate allora credete e se dopo dite al monte spostati nel mare e non dubitate allora vi sarà fatto possa la fede essere all'opera in noi oggi che sia risvegliata in noi fratelli e sorelle non siamo una denominazione siamo il corpo del Signore la chiesa del Dio vivente la sposa dell'agnello e perciò il Signore ci parla in modo così chiaro non più in parabole questo egli lo fa con le moltitudini ma ai suoi egli dice a voi è dato di conoscere i misteri del Regno di Dio ed anche oggi egli apre il nostro intendimento per la scrittura e se questo è accaduto in voi oggi dite amén noi possiamo dire apertamente il Signore si è rivelato a noi non solo ai discepoli sulla via di Emmaus non solo agli undici non solo ai cinquecento secondo Primo Corinzi capitolo quindici egli si è rivelato a noi egli ci ha parlato anche noi abbiamo detto Signore rimani con noi perché si fa sera anche noi abbiamo compreso ciò che è scritto sulla mezzanotte vi fu un grido ecco lo sposo viene uscite agli incontro ed ora noi possiamo appartenere a coloro che hanno udito l'ultima chiamata che sono usciti da tutte le tradizioni da tutte le strane dottrine da tutte le interpretazioni e in questo giorno voglio dire pubblicamente che nel corpo del Signore vi può essere soltanto la santa parola di Dio e nessuna interpretazione può essere trovata là la Chiesa del Signore è una pura sposa parola nata dal seme della parola per mezzo dello Spirito Santo e perciò possa lo Spirito Santo adombrarci e come abbiamo letto il mio Spirito regna in mezzo a voi che possiamo avere questa brama in noi da non aspettare più tale da poter dire caro Signore caro Signore possa accadere per mezzo della Tua grazia ora vogliamo pregare ad ogni modo chiedo di nuovo abbiamo fratelli e sorelle o amici in mezzo a noi che non hanno ancora preso la loro decisione o coloro che devono prendere una decisione che è importante per la loro vita che vengano davanti a Dio e dicano Signore cosa vuoi che io faccia cosa è nella Tua volontà affinché possiamo essere pronti nel nostro interiore per fare la volontà di Dio ad ogni costo se abbiamo tali fratelli e sorelle in mezzo a noi allora alzate la mano ci sono alcuni ed ora pregheremo insieme che la volontà di Dio possa essere fatta nella nostra vita per mezzo della Sua grazia fedele Signore noi abbiamo udito la parola dalle Tue labbra il mio cibo è di fare la volontà di colui che mi ha mandato caro Signore ed ora noi possiamo portare la Tua parola rivelata al Tuo popolo distribuendo il cibo spirituale affinché la Tua sposa sia introdotta nella Tua volontà perché soltanto nella volontà di Dio noi siamo santificati così è scritto in ebrei capitolo 10 verso 10 caro Signore possa non esserci nessuno qui che rifiuta la Tua voce possa nessuno che è qui avere bisogno di tempo per pensare a ciò ma oggi se udite la Sua voce che possiamo rispondere al Tuo appello e mettere la parola in pratica ti ringraziamo che Tu ci parli ed oggi vogliamo dirti grazie che ci hai aperto l'intendimento per la scrittura e che abbiamo compreso il Tuo parlare caro Signore come Tu avrai Sion così fa che la Tua Chiesa ritorni al Monte Sion alla parola che è uscita da Gerusalemme o Dio abbi la Tua via affinché il Tuo beneplacido possa restare su ciascuno di noi per mezzo della Tua grazia a Te l'Onnipotente Dio noi diciamo grazie per la pienezza della Tua meravigliosa e santa parola alleluia alleluia lo date il Signore ricevete la risposta per grazia e siate benedetti nella volontà di Dio che il Signore ha messo nel vostro cuore Signore Dio Onnipotente ancora una volta noi ti ringraziamo per il grande privilegio che possiamo vivere ora e che possiamo trasmettere la Tua parola senza falsificazioni caro Signore Dio solo Tu sei verace ed ogni uomo è bugiardo la Tua parola è verace ed è scritto nella prima epistola di Giovanni nel capitolo 5 nel verso 20 e noi siamo incodui che è il vero nel suo figliolo Gesù Cristo ed egli è il vero Dio e la vita eterna alleluia 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 oh Dio è compiuto noi ti ringraziamo per la redenzione per mezzo del Tuo sangue ti ringraziamo per la Tua parola e ti ringraziamo per lo Spirito Santo che ci guida in ogni verità caro Signore possa tutto il mondo il Tuo popolo su tutta la terra esserne partecipe che sia qui o in Nuova Zelanda o in Australia o in Africa o nel continente nord americano o nel Sud America nell'America centrale in tutto l'Est in tutto l'Ovest in tutta l'Europa in tutti i continenti possa accadere che la Tua parola sia proclamata come testimonianza per alcuni e come chiamata fuori per altri oh Signore Dio del Cielo quanto è meravigliosa la Tua parola benedetta e lodato sì Tu nostro Signore Dio nel nome di Gesù Cristo di eternità in eternità e tutti dicano Amen 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 ed ancora una volta Amen l'ultima strofa del cantico numero 28 cantiamo questa strofa fin questo ma l'ultima Amen. Alleluia, saise chiese, per segne un silenzio. Amen. Potete sedervi per un momento. Non so se le nostre due sorelle hanno un cantico che si adatti. Oggi abbiamo finito un po' prima. Siamo veramente riconoscenti. Ancora una volta vorrei raccomandarvi alle vostre preghiere per il prossimo viaggio, affinché il Signore possa chiamare fuori gli ultimi. Ieri vi ho dato un breve resoconto in merito al viaggio in India e in tutte le città vestato del frutto. E come Dio nel corso degli anni passati ha benedetto ed Egli continuerà a benedire. C'è ancora un annuncio. Non prendetelo molto seriamente. Tuttavia, se volete, l'agenzia di viaggio ci ha scritto una lettera e ci ha offerto un viaggio in Israele dal 3 al 13 maggio, se il tempo continua. E se desiderate partecipare a questo viaggio, allora, per favore, registratevi dalla nostra sorella Elisabeth Fleck. Dio vi benedica e possa benedirci insieme. Quanti vogliono raggiungere la destinazione? Noi tutti. Noi tutti vogliamo essere partecipi quando il Signore verrà. Io vi posso garantire che Egli completerà la Sua opera in tutti coloro che credono in Lui. E noi crediamo la Sua parola e le Sue promesse. e il Signore Dio possa essere con ciascuno di noi. Il fratello Smith pregherà con noi. O Dullamgottes, glce di mio cuore def그래中國 di galle di hoche Grazie a tutti. Gio attrella i grazie a tutti. Grazie a tutti. Gio ह ante A mica ben Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito 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 www.mesmerism.info Es ist vollbracht Es ist vollbracht Es ist vollbracht Noi ringraziamo il Signore per l'opera compiuta E poiché egli ha compiuto l'opera Noi lo sappiamo Il compositore l'ha espresso Verranno dall'est e dall'ovest Verranno dal nord e dal sud Siederanno a tavola Nella sala celeste Per udire Le parole di salvezza Guarderanno Il suo volto Verranno il calice di salvezza Canteranno inni di lode Per sempre E per questo noi ringraziamo il nostro Signore Ora ringraziamolo insieme Padre celeste Ti ringraziamo Dal profondo del nostro cuore Che tu Sei l'unico vero Dio Come abbiamo dito Che ti sei rivelato in Gesù Cristo E noi abbiamo riconosciuto che accanto a te Non c'è nessun altro Tu solo sei colui che ha parlato Tu sei colui che salvi E che conduci Ti ringraziamo che ci hai rivelato la tua parola Ti ringraziamo che ci hai parlato Ti ringraziamo che tu parli ancora E la tua parola e il tuo spirito ci guidano E nella tua luce noi vediamo la luce Signore Gesù Noi ti chiediamo di benedire il tuo popolo su tutta la terra In ogni popolo Lingua e nazione In ogni continente In ogni paese Perché Signore nel cielo Tu stesso prepari un popolo Noi ti ringraziamo E ti chiediamo di guidarci Di condurci Che a te solo sia data la gloria Tu sei degno di ricevere l'ode e le adorazioni O Dio Noi ti chiediamo pure Di guidare E condurre E condurre tutti i tuoi servitori Che portano la tua parola Che stanno come sentinelle Sulle mura di Sion E che avvertono il popolo Per favore Io e il fratello Chi potrebbe dimenticare 50 anni o più E' impossibile E la parola di Dio vive in loro Ed essi hanno parte nella proclamazione Anche questo E' un grande dono di Dio Che tutti quelli che non possono venire Attualmente Possono ascoltare a casa E' semplicemente un dono del Signore Per favore Ricordate le riunioni Le riunioni a Novi Sad In particolare Forse là vi sarà un nuovo inizio Che Dio faccia grazia E che possa usare questo sabato In modo particolare E poi vedremo Come andranno le cose domenica Possa ciascuno essere benedetto In tutto il mondo Portate i saluti con voi E noi vi aspettiamo di nuovo Il prossimo Primo fine settimana Che mese sarà? Dicembre Il prossimo Primo fine settimana E' già dicembre Quanto passa veloce il tempo Amici Ricordatelo L'eternità viene in breve Come dice un inno tedesco Noi recuperiamo il tempo Come ha detto il Signore E così lo diceva ancora una volta Il Signore Dio sia con noi E se avete pensato Per l'inizio del nuovo anno Noi rimaniamo allo stesso ritmo Che conta sempre la prima domenica del mese Anche se il sabato è il 31 dicembre Noi siamo qui il 31 ed anche il primo gennaio Come abbiamo fatto in tutti questi anni Ancora volta questi versi E poi ci rimetteremo alla grazia del Signore Altra di prima domenica E poi ci rimetti Per il nico E poi ci rimetteremo Le... E poi ci rimetteremo E poi ci rimetteremo La... C'è la... Possa la pace di Dio che sorpassa ogni comprensione possa inondare i nostri cuori e la nostra mente in Gesù Cristo il nostro Signore siate benedetti con le benedizioni del Dio onnipotente siate di benedizione per altri per grazia come il Signore stesso ha detto io ti benedirò e tu sarai di benedizione cantiamo ancora benedetto sia il legame che ci di Dio Nisce Dio Nisce Amin questo noi lo crediamo rimanete saldi finché Egli apparirà alla prossima volta ognuno stringa la mano all'altro e gli auguri la benedizione di Dio